Ciao a tutti Sons! Innanzitutto mi scuso per non essere riuscito a fare video ieri, ma è stata una giornata piuttosto lunga e non sono riuscito a fare un riassunto come avrei voluto, ma ve lo faccio oggi e questo è l'ultimo video che facciamo di questa serie direttamente da Singapore per portarvi gli ultimi risultati degli avanzamenti scientifici sui cambiamenti del livello del mare e quindi oggi diamo qualche numero su che cosa ci possiamo aspettare in futuro per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare. Allora innanzitutto devo dire che questa conferenza è stata molto interessante ma soprattutto è stata molto utile perché era la prima volta che la comunità scientifica che lavora su diversi aspetti del cambiamento del livello del mare si incontrava dopo il covid innanzitutto ma soprattutto dopo l'ultimo report del IPCC, dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è un'organizzazione non governativa che racchiude scienziati e policy makers da tutto il mondo che fanno dei grossi riassunti dello stato dell'arte del cambiamento climatico e a noi è molto utile perché questi grossi riassunti ci danno una strada su cui andare avanti e ci indicano quali sono le tematiche su cui lavorare. Nella stanza innanzitutto non c'era come non c'è mai stato nessun dubbio sul fatto che il cambiamento climatico esiste, che il cambiamento climatico è causato dall'uomo, che il cambiamento climatico causa l'innalzamento del livello del mare e che l'innalzamento del livello del mare nel futuro porterà dei grossi problemi. Quindi nella stanza eravamo 200-300 scienziati che fanno questo lavoro e non ce n'era nemmeno uno con un dubbio o con una minima... con un minimo dubbio appunto sul fatto che il cambiamento climatico esiste ed è causato dall'uomo e in qualche modo bisogna affrontarlo. Le cose di cui abbiamo discusso sono state tantissime ma oggi vi voglio parlare di quelli che sono i numeri dell'innalzamento del livello del mare. Cominciamo dall'inizio. Oggi il livello del mare a causa della fusione dei grandi ghiacciai della Terra, principalmente la Groenlandia e l'Antartide, ma anche i ghiacciai montani come la Marmolada che abbiamo visto, oggi dicevo il livello del mare si innalza di circa 3 mm all'anno globalmente. Attenzione, in alcune aree è possibile che il livello relativo o locale del livello del mare si innalzi più rapidamente perché magari il livello del mare si alza mentre la Terra è in subsidenza, quindi si ha un effetto netto di raddoppiamento o anche triplicamento della velocità di innalzamento del livello del mare. Quindi questo è sempre da tenere in considerazione. A questo punto ci chiediamo che cosa potrebbe succedere in futuro e si è discusso molto di questo, cioè che cosa ci possiamo aspettare per il 2050 che è ormai alle porte in tempi geologici ma anche in tempi amministrativi e che cosa ci possiamo aspettare poi per il 2100 che non è proprio alle porte ma comunque è abbastanza vicino da preoccuparci. Innanzitutto si parte dai numeri che ci dà l'IPCC, quindi abbiamo cercato di sviscerare per bene i numeri che sono stati riportati e sono stati riassunti dall'IPCC. Per riassumere i numeri l'IPCC usa una cosa fondamentale che vi devo spiegare che sono gli Shared Social Economic Pathways, detti SSP, cioè i percorsi socio-economici condivisi. Che cosa sono questi percorsi? Sono in pratica delle strade sulle quali noi possiamo decidere di metterci e che ci portano verso il futuro con più o meno emissioni di CO2, più o meno misure di contenimento dell'emissione di CO2, più o meno riscaldamento globale come conseguenza. Ci sono cinque scenari diversi come SSP ma per brevità io qui vi riporto l'SSP1, quindi il caso migliore, e l'SSP5 ovvero il caso peggiore. L'SSP1 è chiamato dagli americani taking the green road, cioè prendere la strada verde. L'SSP5, dato che è il caso peggiore, è chiamato dagli americani taking the highway, cioè prendere l'autostrada. Innanzitutto una cosa è stata chiara a questo meeting. Se guardiamo al 2050 non importa quale di questi scenari scegliamo, oramai abbiamo infatti firmato una sorta di cambiale che fa in modo che ci sia un riscaldamento tale per cui entro il 2050 ci possiamo aspettare di vedere a livello globale circa 20 cm di innalzamento del livello del mare. Questa è una cifra già abbastanza importante perché 20 cm possono causare erosione sulle coste, possono mettere in crisi determinate strutture costiere, possono mettere in crisi alcune infrastrutture abitative soprattutto in caso di mareggiate, quindi è un numero già abbastanza preoccupante. Vediamo invece cosa succede al 2100 che è un pochino più lontano nel tempo e quindi se dovessimo adottare delle misure di contenimento dell'emissione di CO2 queste misure riuscirebbero a contenere anche l'innalzamento della temperatura e quindi la fusione dei ghiacci e quindi l'innalzamento del livello del mare. L'SSP1 cioè Taking the Green Road vuole praticamente dire che da domani cominciamo a fare tutto bene, cioè limitiamo assolutamente in maniera assolutamente efficace le emissioni di CO2, sviluppiamo dei metodi per sequestrare la CO2 che già abbiamo in atmosfera e quindi riusciamo a limitare di molto il riscaldamento globale. L'SSP1 prevede più o meno che entro il 2100 riusciamo a stare sotto i 2 gradi centigradi di riscaldamento che è l'obiettivo che ci si è dati alla COP21, quindi un obiettivo globale che molti stati hanno riconosciuto come un obiettivo urgente da raggiungere. Nel caso in cui riuscissimo a fare tutto questo, quindi nel caso SSP1, Shared Social Economic Pathway, ve lo ricordo sempre, avremmo un innalzamento del livello del mare al 2100 di circa 40 centimetri. Ora ci sono delle barre di errore su questo numero, in questo caso sono 17 centimetri, però vedete che facendo, mettendo in campo questo scenario molto virtuoso, comunque abbiamo un po' di innalzamento del livello del mare, da 2050 a 20 centimetri, a circa 40 centimetri nel 2100, ma comunque riusciamo a mantenere un livello abbastanza basso, relativamente basso di innalzamento del livello del mare. Poi se continuassimo su questa strada, entro il 2200 si comincerebbero a vedere, o anche il 2150, si comincerebbero a vedere degli effetti più marcati, quindi il livello del mare smetterebbe di salire, ma comincerebbe a lasciarsi, a rimanere stazionario sulla quota raggiunta. Scenario peggiore, taking the highway. Taking the highway non vuol dire che continuiamo a emettere CO2 come se non ci fossero domani, o meno, o meglio, lo facciamo, ma nel frattempo troviamo anche delle tecniche per abbattere le grosse emissioni di CO2, quindi facciamo qualcosa ma non facciamo abbastanza. La SSP5 prevede che le cose entro il 2100 non vadano benissimo, cioè non si riescano a raggiungere gli obiettivi della COP21 e si arrivi intorno dai 3 ai 5-6 gradi di riscaldamento globale sul nostro pianeta. Questo per molti, così come per me, è una soglia molto 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 alta, è una soglia che il nostro pianeta ha già vissuto in passato per cause del tutto naturali che oggi non sono in gioco, questo è bene ricordarlo, ed è una soglia che farebbe fondere i ghiacciai molto rapidamente e farebbe fondere tantissima quantità di ghiaccio facendola riversare negli oceani, quindi facendoli salire di più che non nello scenario SSP1. Di quanto salirebbe gli oceani, secondo le SSP5, purtroppo in questo caso ci dovremmo trovare, ci troveremmo ad affrontare circa 75-77 centimetri di innalzamento del livello del mare più o meno 24 centimetri. Vedete che se tengo in conto la barra di errore più pessimistica arrivo quasi o supero di poco il metro di innalzamento del livello del mare, che è veramente una quantità catastrofica. Se pensate a un metro di innalzamento del livello del mare le nostre spiagge soffrirebbero, sto parlando dell'Italia in questo caso, soffrirebbero molto le nostre infrastrutture portuali, soffrirebbe molto tutto quello che noi abbiamo costruito sulla costa. Quindi dovremmo ripensare completamente il nostro abitare la costa e il nostro insistere sull'avere delle attività economiche sulla costa. Nell'SSP1, quindi nel miglior caso, dovremmo comunque sforzarci, comunque avremmo dei problemi con 40 centimetri di innalzamento del livello del mare al 2100, ma comunque potremmo riuscire a gestirlo. E tutto questo è stato discusso da due lati. Da un lato gli scienziati come me, come tanti altri, che cercano di contribuire a questi numeri che vi ho appena detto e le incertezze che caratterizzano questi numeri, e dall'altra chi deve fare le infrastrutture o chi deve fare dei piani di adattamento, che noi chiamiamo i practitioners, quindi le persone che lavorano poi con l'adattamento o con la resilienza e quindi la risposta a questo innalzamento del livello del mare. Ora, ci sono tantissimi problemi quando queste due realtà devono combaciare e proprio in questi convegni è molto utile che le due comunità siano insieme perché ci possiamo dire le cose di persona, ci possiamo dire le cose così come stanno, senza tantissimi peli sulla lingua, magari a volte anche dibattendo abbastanza animatamente, ma comunque sempre con un punto di vista costruttivo che ci possa aiutare a far combaciare queste due realtà, farle parlare insieme e quindi risolvere i grossi problemi che si presenteranno nel futuro del nostro pianeta. Ok, io vorrei chiudere qua, ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ci sono tantissimi problemi di cui abbiamo discusso, tantissime cose che sono molto tecniche ma che mi piacerebbe spiegarvi magari in maniera un po' più semplificata. Se avete voglia di sentirle mettetemi un commento qua sotto sui canali Instagram, sui canali YouTube dei Sons e sono dispostissimo a farlo perché quello che faccio è anche, non è solo un lavoro ma è anche la mia passione, quindi mi piace parlare di queste cose, spero che lo avrete visto durante questi video che ho fatto, un po' amatoriali ma comunque abbastanza con la volontà di informare il più possibile e quello che vorrei dire è che la cosa importante è che oggi o comunque a breve decidiamo su quale di queste strade vogliamo essere. Purtroppo noi possiamo deciderlo fino a un certo punto, sono le scelte politiche che determinano su che strada si va a finire. Ecco, per andare sull'attualità in Italia è appena accaduto un governo e si parla di fare le elezioni, si parlerà di mettere un nuovo governo tecnico, non lo so, non ho seguito le notizie in questi giorni ma c'è una cosa che spero e la spero veramente tanto, cioè che qualsiasi governo arrivi o qualsiasi candidato ci sia di destra, di centro, di sinistra, da Marte, da Giove, non importa, parli un po' più di queste cose o comunque ci dica qual è il suo piano. Cioè a me piacerebbe sentire in maniera molto onesta da parte di chi fa politica nel nostro paese, di chi vuole amministrare il nostro paese, una cosa molto chiara, guardate io questo paese lo voglio portare sullo scenario 1, sullo scenario 2, sullo scenario 4, 3, 4, 5, vorrei sentirlo perché a seconda di quale scenario si sceglie, e ve li metto qua sotto, si ha una vita diversa, si ha una visione del clima diverso, si contribuisce al futuro del pianeta in modo diverso e questo a me piacerebbe tantissimo saperlo da chi chiede una cosa importante come il mio voto per governare un paese importante come l'Italia anche nella scena climatica globale. Con questo vi saluto, spero che tutto questo vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima, seguite i Sons, supportateci, supportateli, se avete voglia seguite anche me, Alessio Rovere, vi lascio qui i nostri canali social, se avete domande chiedetecele perché veramente a me fa tantissimo piacere cercare di passare un pochino di quello che ho imparato, del poco che ho imparato in tutti questi anni a tutti, perché alla fine quello che so io deve essere un bene di tutti e quello che scrive l'IPCC è un bene che è posseduto da tutti, non solo da alcuni scienziati. Come vedete e come avete visto, spero in questi giorni, non ci chiudiamo in una torre d'avorio, non siamo persone normale, non siamo super uomini o super donne, siamo solamente esseri umani che cercano di fare al meglio un lavoro importante. Grazie a tutti ragazzi, ciao!